Buongiorno fratelli, Dio vi benedica, good morning. Good morning, God bless everybody. Good morning, good morning, good morning. Grazie signora, siamo qui, stiamo mangiando insieme, questa è la breakfast, colazione, e come sempre diciamo un po' di Bibbia, un po' di parola, e come cerchiamo di condividere con i fratelli. Oggi cos'è che condividiamo? Una storia intitolata L'albero dei problemi. Leggi tu? Sì. E' tradotta dall'inglese, quindi non è una traduzione perfetta. Ti diamo la multa se non è... Eh, allora puoi darmela già, puoi iniziare. No, perché poi devo pagare io, se qui i soldi sono in comune qua. L'albero dei problemi. Una donna ha assunto un idraulico per aiutarla a restaurare una vecchia fattoria, e lui aveva appena finito la prima giornata di lavoro. Una gomma a terra gli ha fatto perdere un'ora di lavoro. Il suo trapano elettrico si è rotto. Il suo vecchio camion si è rifiutato di partire. Quindi la donna lo ha accompagnato a casa, con il suo auto, e lui sedeva in un silenzio di pietra. Non ti credo. Al suo arrivo, la invitò a entrare e conoscere la sua famiglia. E mentre si avviavano verso la porta d'ingresso, lui si fermò brevemente davanti a un piccolo albero, toccando le punte dei rami con entrambe le mani. Aprendo la porta, ha subito avuto una trasformazione incredibile. Il suo viso triste era avvolto di sorrisi. Abbracciò i suoi due bambini piccoli e diede un bacio a sua moglie. Avevo toccato l'albero con i rami con le mani? Sì. Ok, andiamo avanti. In seguito, tornò alla macchina con la donna, e passando via l'albero, la donna chiese «Cosa hai fatto prima?» Si è fermato con la macchina a toccare l'albero. E lui disse «Ah, questo è il mio albero dei guai!» Wow. «So di non poter fare a meno di avere problemi al lavoro, ma una cosa è certa, quei problemi non entrano nella casa dove è mia moglie e i bambini. Glorie a Dio!» E quindi li appendo all'albero ogni notte quando torno a casa e chiedo a Dio di prendersi quella di loro. Poi al mattino, quando esco, li raccolgo di nuovo. Ma la cosa interessante è che, quando esco la mattina per prenderli, non sono così molti rimasti sull'albero. Sì, grazie signore. È bella, bella. E anche noi, quando torniamo a casa, prendiamo fuori, per esempio a tempi di pandemia, come adesso è ancora pandemia, e ci cambiamo un po', ci cambiamo il pantalone, la gonna, ci si cambia la giacca, ci si cambia perlomeno alcune cose esterne, così da non portare a casa malattie. Lo stesso funziona anche con gli spiriti. E anche preghiamo sempre alla porta che ogni spirito del mondo rimane fuori e non entra in questa casa. Esatto, sì. Tornando a casa, quando apriamo il cancello, preghiamo Gesù libero in via da ogni spirito del diavolo, con quel spirito che sta facendo autostop. Qualunque, insomma, la preghiera varia, puoi preghare come vuoi, non c'è una formula. Signore, scacciamo ogni spirito del mondo, così entriamo a casa con le sorrisse. È come toccare l'albero, l'albero è spirituale. Certo. Tocchiamo all'albero, all'entrata del cancello, l'albero, virgolette, e diciamo, signore, avreteci ad entrare solo con lo spirito santo. Amè. Funziona, fratello, hai provato. Amè. Lo stesso è prima di andare a dormire la sera, quando ti svegli la mattina, prima di mangiare. Ad ogni svolta è sempre bene che sia una svolta di amore, una svolta di fede, sempre, specialmente quando non hai voglia. Perché quando non hai voglia di pregare, di lodare, vuol dire che il diavolo si è avvicinato. E allora devi pregare il doppio, lodare il doppio. E allora il diavolo se ne va. Amè. Amè. Avviene la scrittura, tu? Sì, c'è una scrittura che va con questa storia, nel Salmo 118, verso 24. Questo è il giorno che il Signore ci ha preparato. Festeggiamo e rallegramoci in esso. Salmo 118, 24. Ogni giorno il Signore è preparato per festeggiare e per lodare. Collegato a questo ci ho anche qui secondo croniche 20, 26 e 28. Dice il quarto giorno si radunarono nella valle di benedizione. Si chiamava valle di benedizione in Israele. Non so se c'è ancora. Dove benedissero l'Eterno? Per questo quel luogo è stato chiamato valle di benedizione, fino al dì di oggi. Tutti gli uomini di Giuda e di Gerusalemme con a capo Giosafari, che questo era un grandissimo re di Israele, ma di Gerusalemme, un re di Dio, un uomo veramente di Dio Giosafari. Partirono con gioia per tornare a Gerusalemme perché l'Eterno li aveva ricolmi di allegrezza, liberandole di loro nemici, di entrare in Gerusalemme e nella casa dell'Eterno al suono dei salteri, delle cetre, delle trombe. Gloria al Signore. Wow, bellissimo. Il secondo cronico 20, 26 e 28. Guarda, qui c'è un'altra, Nehemiah 8, 10. Nehemiah disse loro, andate, mangiate, vivande grasse, bevete vini dolci, mandate delle porzioni a quelli che non hanno nulla di preparato per loro, perché questo giorno è consacrato al Signore nostro. non vi attristate perché il vostro Gaudio dell'Eterno è la vostra forza, il vostro Gaudio è la vostra gioia dell'Eterno. La gioia dell'Eterno è la vostra forza. La gente piangeva, stanno ricostruendo le mura di Gerusalemme e piangevano per i peccati, così. E allora festeggiarono l'Eterno e disse Nehemiah non vi attristate perché la gioia dell'Eterno è la vostra forza. Quindi quando siamo deboli e perché non stiamo lodando il Signore con gioia. Era proibito di presentarsi davanti al re di Persia a quei tempi che ho visto attristato. Infatti Nehemiah capitolo 2 il re gli dice perché 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 si è triste era triste perché Gerusalemme era distrutta e dice che Nehemiah si è spaventato perché quando il re ti vede triste c'era una regola e si togliava la testa. Però Nehemiah era uno che si era fatto amare dal re con la sua fedeltà la sua diligenza e dice beh sono triste perché devo ricostruire Gerusalemme insomma una lunga storia leggete nel mio capitolo 1 e 2 leggete tutto il libro e lei gli ha concesso di ricostruire le mura cioè il punto è che voglio fare non si può non si poteva andare davanti al re all'imperatore del mondo alla taserse che sarebbe come oggi il presidente della Russia e dell'America messi insieme più il Vaticano e più il Bruxelles in un uomo non si poteva non possiamo andare davanti al Signore con le nostre disgrazie oh Signore oh lascia che ti dica cosa ho bisogno quando sono triste non si può fare così non è importante quando ti senti un disgraziatore tu vai davanti a Dio col gaudio con la gioia con la felicità anche se le cose vanno male ma di più di più perché e quando la macchina che non parte che ci serve il meccanico che serve quindi quando la macchina non parte con la gioia con la lode è lì che devi lo dare di più cosa fai quando spingi la macchina non parte spingi di più poi se Dio vuole anche se la batteria è scarica partirà cosa fai se non parte spingi di più e allora quando la mattina la tua gioia non parte spingi di più va bene il diavolo se ne va alleluia non importa quanti guai abbiamo celebriamo il Signore va bene quando quando sei contento di lodare il Signore che sei felice di lodarlo e sei pronto è bello benissimo ma quando non sei pronto non hai voglia non te la senti perché hai fatto avvicinare il diavolo è logico che non te la senti allora cosa devi fare spingi di più lodi di più sgrida il diavolo di più e loda il Signore di più funziona 6 e 58 13 se tu trattieni il piede per non violare il sabato facendo i tuoi affari nel mio santo giorno tu fai i tuoi affari se chiami il sabato una delizia venerabile ciò che è sacro all'eterno c'è una delizia avvicinarsi al Signore se onori quel giorno il sabato che per noi ogni giorno ogni mattina seguire anziché seguire le tue vie anziché fare i tuoi affari e discutere le tue cause Signore lasciami che ti esponga le mie disgrazie vengo davanti a te Signore per lamentarmi Signore voglio riempire il paradiso delle mie delle mie lamentele e no per l'amor di Dio lascia perdere il paradiso ma neanche a casa mia ti invito e non so chi mi invita a casa sua va bene e chi vuole parlare con un lamentino mi manca una gamba e l'oda il Signore ce n'è ancora una va bene tutti questi pochi anni che ho seguito il Signore l'unico modo della vittoria è camminare la vittoria lodare il Signore amare il Signore e amare il fratello che se non ami il fratello il Signore col pinocchio che lo ami va bene ami il Signore tanto quanto a mio fratello è scritto Matteo 25 30 in su nel nome di Gesù Cristo amè Signore vi benedica vi protegga vi guarisca vi liberi vi unga Spirito Santo su di voi anzi su di noi e anche su di me nel nome di Gesù Cristo amè alleluia gloria a te Gesù ti amo Signore amè grazie a tutti grazie a tutti